buongiorno vorrei parlarvi quest'oggi di un'esperienza che mi ha molto toccato era proprio ieri quando il fetto di giovanna è arrivato in contatto thomas quel ragazzo brutto scemo a lui piacciono le lasagne come quando un estintore lo mangi poi non lo vomiti perché non ce la fai come quando sei sotto le coperte e hai una ragosta sotto lì con te no? e non ce la fai come quando le lenzuola non le lavi quando fai la pipì quando thomas te lo ritrovi dentro la federa del cuscino non ce la fai non ce la fai come quando come quando un biscotto un biscotto sano lo mangi ma poi scopri che non è sano quando scopri che hai grassi saturi come quando scopri che lei ti sta disturbando come quando pensi sempre di avere per amici delle persone serie delle persone che ti stanno vicino delle persone intelligenti ma in realtà non è vero non è vero non è vero non è vero bene come quando guardi michael moschion con i suoi capelli come quando sai che niente può sfuggirti come sai che aiuto scappiamo no ahahah 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 fermi tutti mi è caduto fermi tutti mi è caduto il cervello mi è caduto il cervello non sono quella anche il regalo scusate non calpestiamo le cacche degli altri non calpestiamo le cacche degli altri ultimo pensiero filosofico direi che ahahah 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 bene questo video sarà inserito su youtube prossimamente quindi sul taglio 1 no youtube no poker maniera ma allora io voglio salutare la mamma che mi vuole bene facciamo le due due aah le presentazioni ciao ciao mamma ciao mamma